Cari concittadini, vi comunico che a seguito dell'accertato caso positivo di coronavirus di un nostro concittadino, ieri pomeriggio sono stati effettuati presso la Casa del Riposo per Anziani da parte dell'Aspi di Agricento numero 41 tamponi farincei per quanto riguarda gli anziani ricoverati e numero 16 per i dipendenti che operano all'interno della struttura. Pertanto nel giro di 48 ore saremo nelle condizioni di conoscere l'esito dei testi. In mattinata ho provveduto a richiedere all'Aspi di Agricento che venisse effettuato un tampone farinceo al fratello e alla figlia del predetto anziano. Tutte le autorità competenti e irresponsabili della struttura stanno adottando tutte le misure necessarie a tutela della salute pubblica. L'amministrazione comunale sta provvedendo oltresì a istituire un fondo Covid-19, ossia prevedere delle risorse economiche per garantire un adeguato sostegno alle famiglie che si trovano in difficoltà economica e che non possono far fronte all'acquisto di genere alimentare di prima necessità. Diverse associazioni di volontariato hanno dato la loro disponibilità a collaborare con il Comune per l'espletamento dei servizi di assistenza e di primo intervento. In data odierna ho provveduto ad attivare il Centro Operativo Comunale per programmare e coordinare le iniziative che la legge impone nel momento in cui viene accertato un caso positivo di coronavirus. Continuerò ad informarvi tempestivamente sulle diverse iniziative che questa amministrazione continuerà ad adottare. Buona serata e rimanete a casa. Grazie.